Salve gente, qui il vostro Manuel, bentornati amici miei oggi vi farò vedere la mia ultima customizzazione che ho fatto per quanto riguarda la Playstation 5 quindi ragazzi mi raccomando prima di iniziare io vi invito subito a lasciare stare tutto il casino che c'è da questa parte vi invito subito a lasciare un bel like e senza ancora iscritti iscrivetevi non sarà un video lunghissimo però vi voglio mostrare la mia ultima customizzazione per quanto riguarda la Playstation 5 Slim quindi come avete già visto subito ovviamente con una mano devo sistemare tutto ho optato per comprare una piccola custodia se vogliamo chiamarla per la Play in caso di protezione per quanto riguarda la polvere davanti qui abbiamo i due ingressi per le porte di USB di tipo C e anche il disco avevo fatto una piccola apertura così anche possiamo fare tutto quello che vogliamo fare ecco abbiamo bisogno mettere il disco da questa parte tutta si presenta Total Black che è veramente carina mentre la parte dietro signori abbiamo purtroppo non si vedrà benissimo vediamo se metto a fuoco ok benissimo abbiamo anche l'HDMI, il cavo LAN, i due porte di tipo USB e anche il cavo di ricarica ovviamente anche per farla respirare mentre se andiamo su amici come potete vedere quanto riguarda la Play abbiamo optato per aprire queste due parti in modo che la Play possa respirare mentre è in funzione e un'altra cosa che ho comprato e che ho installato subito all'interno della mia Playstation 5 Slim sono anche queste due chiamate che bello il pupazzetto di Goku ho installato o anzi ho inserito questi due pezzi signori che sia quindi il lato destro che anche il lato sinistro dove signori almeno con la ventola possa girare in modo molto tranquillo possa prendere l'aria e anche non abbia alcun problema quindi non ha un'ottima estetica lo devo dire però oddio attenzione il suo lavoro lo fa oltre questo signori anche la Play naturalmente noi la possiamo anche distendere perché questa è la cosa ottima di questa Play altra cosa molto importante che abbiamo installato all'interno della nostra Playstation 5 Slim sono anche questa piccola reticella che vedete dietro messa qui dietro signori che non copre assolutamente tutti i cavi tutte le porte che possiamo utilizzare così almeno la polvere se dovesse entrare da dietro non avrà alcun modo di entrare per rovinare la mia Playstation la stessa identica cosa signori va anche per questo abbiamo messo o anche installato qui un'altra reticella qui in avanti così che non abbia alcun problema perché vabbè se la mettete dritta non avrà alcun problema però se la mettete coricata come faccio io signori questo è il risultato e niente signori questa a parte le ditate purtroppo è la mia Playstation 5 modificata se vogliamo proprio dirla in questo modo o inoltre a tutte le cagate che ci stanno qua dietro e signori fatemi sapere magari con un commento anche se voi se avete una Playstation 5 e mi raccomando lasciate un commento qua sotto veramente è molto molto carina io ovviamente la utilizzerò coricata e niente questo è tutto raga un video abbastanza corto però era veramente ottimo da far vedere niente signori noi ci becchiamo alla prossima qui la vostra mano di quartiere come al solito è tutto bella grazie a tutti